Un protagonista della politica italiana, uno degli ultimi testimoni della storia della democrazia cristiana. Gerardo Bianco, 91 anni, è morto questa mattina a Roma a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute dopo un intervento che ha subito nei giorni scorsi. Nato a Guardia Lombardi in provincia di Avellino il 12 settembre del 1931, docente universitario, insigne latinista, Bianco è stato deputato alla Camera per nove legislature, dal 1968 al 2006, ricoprendo vari incarichi parlamentari, tra cui quello di capogruppo della democrazia cristiana. Dal 27 luglio 1990 al 13 aprile 1991, nel sesto governo Andreotti, fu ministro della pubblica istruzione. Con lo scoppio di mani pulite e la fine della DC, Gerardo Bianco, dopo le divergenze con Rocco Buttiglione, schierato con il centrodestra, aderisce al nuovo partito popolare, di cui poi sarà segretario e presidente, contribuendo all'arrivo di Romano Prodi a Palazzo Chigi. Tanti gli attestati di stima da parte della politica, uomo libero, coraggioso, saggio e divisione, lo ricorda il segretario del PD letta. Senza di lui non sarebbe nato l'olivo, le parole di Dario Franceschini.